allora il tempo del sogno dream time deluxe sembravo buongiorno eccolo qua ecco il tempo del sogno è deluxe limited edition blu ray più cd soundtrack e post più postcard tra l'altro il montatore di questo documentario luigi scarpa era è un grandissimo sostenitore drag me to fest e dei rai è presente anche ieri il film è un documentario del sogno vedere cos'è di claudio lattanzi scritto qua sotto giro lo sbustiamo lo sbustiamo dolcemente io adoro queste buste quindi tu stefano mi devi dire dove le posso comprare le mie vecchie edizioni questo è uno slip case lo slip che esiamo non so come si possa dire lo sbustiamo lo sfiliamo qui c'è una marai vola lo apriamo o quanta roba c'è dentro allora bello la marai un po più spesso con appunto il porta più porta dischi perché appunto abbiamo la cosa che abbiamo la questo è il film in blu ray e questo è il cd original soundtrack di luigi seviroli che andiamo a vedere dopo allora poi c'è un adesivo di ros blade ma che figata hai fatto faccio un adesivo di ros blade ma che figata abbiamo qua una vhs raga una vhs cartolina con claudio lattanzi di cui trovate la mia recensione del precedente documentario su michele suavi sul sito non aprite questo blog punto il box è una meraviglia raga un altro io collezionati vhs che vi devo dire poi qua c'è lì il un'altra cartolina se non erro che è quella della soundtrack c'è una cartolina della soundtrack con i nomi delle canzoni e poi ci sono tra l'altra 3000 cartoline che cazzo vi devo dire ragazzi è fissato sto ragazzo è fissato con le cartoline questo è l'amberto bava se non erro adesso poi non li azzecco tutti quindi è meglio se sto zitto non faccio figure di merda pulici perché perché loro sono i protagonisti del protagonisti di questo tempo del sogno perché il documentario parla di un'epoca in cui il cinema di genere il cinema horror andavano alla grande bello che tu abbia messo tutte queste belle cartoline eccoci qua silvia colatina e vola e vola insomma chi tutti i protagonisti non tutti però molti protagonisti in queste cartoline molti protagonisti del cinema di quell'epoca mettiamo se abbiamo visto tutto sì ma che figata devo dire che hai fatto un'edizione meravigliosa o buoni presentimenti sulla qualità di questo documentario perché mi era piaciuto tantissimo quello di suavi quindi ho delle buone aspettative dove devo ancora vedere chiudo rimetto tutto il pacchettino e lo rinfiliamo qua sacchete ci vuole ci vuole maestria e amore sac e poi io adoro questa cosa che fa stefano di metterli dentro queste buste che io terrò che purtroppo solo per le sue edizioni ma vorrei averle per tutte non lo so mi dà anche oltre al fatto che comunque stanno bene mi dà l'idea che ho proprio cura del mio del mio film oggetto con questo sento di lo proteggo dalla polvere credo che sia una protezione in più interessante fighissimo edizione ras play records che trovate sul loro sito di il tempo del sogno di claudio rattanzi tanta roba tanta tanta roba come faccio gli unboxing no il migliore di tutti era se rise in terror non c'è un cazzo da dire ragazzi rise in terror che vi invito a seguire su instagram è matto è simpatico ma fa degli unboxing delle cose che è matto cioè fa delle cose bellissime quindi stavo per dire il migliore ma devo essere onesto intellettualmente il migliore a fare gli unboxing è rise in terror cioè non c'è non c'è un cazzo da dire purtroppo io sono fatto così volevo volevo eleggermi migliore ma non posso non c'è un cazzo da dire purtroppo io sono fatto così